Mio Figlio è il Sacerdote Eterno che è presente come in cielo nel Santissimo Sacramento. È proprio nella presenza dell'Eucarestia che comprenderete e apprezzerete meglio il significato della mia presenza in mezzo a voi. Con l'Eucarestia sentirete la forza per portare a compimento la vostra grande missione. Troverete il coraggio per partecipare alla vita della Chiesa. In questo modo contribuirete alla costruzione della pace e dell'amore. Non c'è vera missione infatti se non si vive in profondità il mistero eucaristico come comunione con mio figlio. Vivo, vero, sacramentalmente presente, agnello immolato per la salvezza di tutti voi. Attraverso l'Eucarestia avete la possibilità di valorizzare la vostra vita. Ma non potete partecipare all'Eucarestia se non avete la vera fede in Dio, Uno e Trino. Se vivete in comunione con Cristo in un atteggiamento di umiltà e di timore, sarete pronti a sperimentare il profondo potere spirituale dell'Eucarestia. Se accettate il dono di Cristo con gratitudine per tutto ciò che Lui ha fatto per voi, diverrete pronti a sperimentare il profondo potere spirituale dell'Eucarestia. Se accettate il dono di Cristo con gratitudine per tutto ciò che Lui ha fatto per voi, diverrete pronti, per mezzo dello Spirito Santo, a compiere la vocazione che Dio vi ha dato come membri della Chiesa. Infine, se riconoscete in Gesù e nel dono del suo sacrificio eucaristico, la sorgente di quella verità che è l'unica che vi può rendere liberi, i vostri cuori saranno purificati, per prestare il vero culto a Dio e lavorare per il suo regno di giustizia e di pace. Esprimete la vostra gratitudine a Dio per i doni ricevuti nella partecipazione all'Eucarestia. L'Eucarestia è il sacramento della pace di Cristo perché è il memoriale del sacrificio salvifico redentore, della croce. È il sacramento della vittoria sulle divisioni che scaturiscono dal peccato personale e dall'egoismo collettivo.